buonasera a tutti e benvenuti quelli che si connettono sono già connessi si connetteranno in questa questo incontro che vuole essere un momento per celebrare una pagina di storia spesso non troppo conosciuta quella del bienio rosso e soprattutto per approfondire lo scenario vicentino di questo periodo che è ancor più misconosciuto siamo qui in compagnia di carlo collegato della società filosofica italiana e di soprattutto emilio franzina che ci accompagnerà in questo percorso studioso di storia sociale e culturale secoli diciannovesimo e ventesimo diciamo che questo incontro oltre e con giuseppe rigobello di circolo cosmos che ci aiuterà anche lui in questo dialogo sviscerare il tema questo incontro scaturisce da un gruppo di lavoro che abbiamo avuto negli scorsi anni approfondimento sulle opere gramsciane all'interno di circolo cosmos e in quel periodo dal 19 19 1920 oltre a fondare un giornale ordine nuovo dato anche un agitatore si può dire nelle fabbriche prinesi e proprio da questo infatti vogliamo partire da e chiedo a carlo di farci una breve introduzione sul tema ossia quali sono le implicazioni e politiche del di questo bienio rosso sulla storia della politica a sinistra italiana e ripercussioni di questi eventi hanno avuto poi sul pensiero di gramsci e sulla sua esperienza e poi insomma passare a un intervento un po più storico però prima volevo fare non volevamo fare un breve introduzione carlos ci puoi inquadrare il tema grazie grazie a tutti e grazie fabiuccio è perché quindi il bienio rosso è stato così importante nella formazione del pensiero del socialismo della sinistra italiana e poi anche per gramsci perché evidentemente nel 1918 in italia arriva l'eco della rivoluzione bolshevica e questo crea un entusiasmo nella classe operaia quasi oggi incomprensibile pensate che nel 1918 la cgl aveva 250 mila iscritti e nel due nel 1920 due anni dopo ne avrà due milioni e due questo ci dà un po l'idea di quello che succede in quegli anni è il partito socialista nel 1918 è guidato da dall'ala massimalista eh da personaggi come Giacinto Menotti Serrati e l'idea del massimalismo nasce dal programma di Erfurt del 1891 nella socialdemocrazia tedesca dove si parla per la prima volta della differenza tra un programma minimo quindi di come inserirsi nell'albero delle istituzioni borghesi e di un programma massimo invece evidentemente della rivoluzione ecco è interessante eh quello che accade per il dibattito nel eh congresso che si tiene tra il 5 e l'8 ottobre il 1919 del partito socialista a Roma perché qui in qualche modo ci sono tre grandi punti di vista tre grandi mozioni da una parte quella di Lazzari che di fatto riprende la mozione minimalista per intendersi quella di Turati poi però ci sono due sfumature tra la il massimalismo di eh quello che abbiamo definito adesso eh Giacinto Menotti Serrati e il nuovo la nuova posizione di Amedeo Bordiga poi vicino anche a Grammici qual è la differenza beh entrambe queste posizioni di fatto rivendicano il valore della rivoluzione russa e bolshevica eh entrambe queste posizioni vogliono che il partito socialista si inserisca nella terza internazionale e eh entrambi vogliono che eh si assuma il nome di partito comunista e che la parte invece minimalista venga marginalizzata se non espulsa ma c'è una differenza di fondo perché mh Giacinto Menotti Serrati ritiene che la rivoluzione questo è un aspetto secondo me molto affascinante arriverà inevitabilmente no in qualche modo inserendosi quello che che era stato il dibattito della seconda internazionale in Germania e la posizione di Kauski no Kauski che era lettore di Darwin insieme di Marx sosteneva che le contraddizioni che abitano nel capitalismo esploderanno necessariamente eh per cui in qualche modo una visione della storia meccanicistica e deterministica la rivoluzione arriverà senz'altro no per cui questo mi ha sempre fatto enormemente sorridere eh che cosa deve fare il partito socialista organizzarsi e attendere cioè mi immagino il partito socialista seduto al bar con uno spritz e una sigaretta in attesa dell'avvento messianico incontrovertibile e inevitabile della rivoluzione ecco in qualche modo questa idea viene ripresa da Serrati e invece a Medeo Bordiga eh il napoletano si oppone dice no ci vuole lo spontaneismo ci vuole il soggettivismo della classe operaia bisogna incidere immediatamente ecco la parte massimalista vince e poi come è noto nel 1920 si diffondono un po' ovunque degli scioperi pensate 2000 scioperi in tutta Italia con 2 milioni e 300 mila scioperanti e lo sciopero più importante eh è quello dell'estate il 18 giugno la FIOM presenta un memorandum e chiede un aumento dei salari gli industriali eh prendono tempo il 13 agosto comincia una strategia di ostruzionismo e gli industriali poi dichiarano la serrata in molte aziende una volta dichiarata la serrata comincia l'occupazione delle fabbriche cioè 500 mila operai occupano le fabbriche tra il primo il 9 settembre del 1920 eh o qui di fatto sia il sindacato che il partito socialista non si assumono la responsabilità di innescare un processo rivoluzionario e questo poi eh determinerà personaggi come Gramsci, Togliatti, Tasca e lo stesso Bordiga una critica forte nei confronti di una classe dirigente al loro modo di vedere incapace di guidare con forza il processo rivoluzionario ed è per questo e anche per questo che poi nel congresso di Livorno del 21 gennaio del 1921 nascerà il Partito Comunista. Tutti questi eventi eh evidentemente si 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 sedimentano poi nella vita nel pensiero di Gramsci e che in qualche modo rielaborerà nei quaderni del carcere. Beh come come noto Gramsci parla della necessità di costruire una filosofia della prassi, cioè la filosofia non deve essere un giochetto per qualche intellettuale che si ritira nella torre d'avorio dell'intellettuale, scusate ripetizione, ma deve cercare di educare le masse innalzandole a un livello di coscienza più elevato. Eo Gramsci ritiene che la filosofia della prassi debba farsi portatrice dell'ideale marxiano del materialismo storico, ma debba abbandonare contemporaneamente il materialismo volgare, ovvero una posizione deterministica, meccanicistica e superstiziosa. No, cosa vuol dire materialismo storico in due parole? Se in tutta la storia del pensiero fino a Hegel eh di fatto ci si concentra sulla dimensione culturale, spirituale, no? In Hegel la filosofia dello spirito e si ritiene che siano proprio queste dimensioni a determinare il processo storico, cioè la filosofia dello spirito determina la razionalizzazione della storia. Invece per Marx per la prima volta eh ci si concentra invece sulla dimensione materiale ed economica. È la struttura che determina la storia, se voglio capire la storia, se voglio capire il mio tempo, devo andare a vedere quelle che sono le forze produttive, cioè come si produce, cioè eh l'apparato tecnico, tecnologico e scientifico e il modo di produrre determina anche poi le relazioni, le configurazioni sociali. Questo significa, come spiegò bene Marx già nella miseria della filosofia, che il mulino a vento crea il feudatario, così come il mulino a vapore invece crea il capitalista contemporaneo. Quindi se io voglio capire la storia, devo vedere come si produce, quali sono le dimensioni economiche e queste poi determinano invece tutto ciò che per Marx è sovrastruttura, cioè l'arte, il pensiero, la politica. Cioè non è l'arte, il pensiero e la politica che determinano la dimensione economica, ma è la dimensione economica che determina ogni altra dimensione culturale. Ecco, Gramsci si inserisce in questo dibattito di fatto rivalutando fortemente la dimensione sovrastrutturale e culturale. Probabilmente come tu intendevi dire, Fabio, non mi ricordo se nell'introduzione una telefonata che mi feci in precedenza, ma Gramsci si accorge che il mondo sta cambiando, comincia ad incidere la comunicazione di massa e capisce che la dimensione culturale e la dimensione intellettuale non può più essere considerata sola, derivata in maniera deterministica da quella economica. E qui, e qua conduco perché sennò Emilio si arrabbia e gli rubo troppo tempo, che nasce anche la nozione celebre di egemonia. Se si vuole conquistare il potere, dice Gramsci, bisogna fare in modo che la classe dominante diventi anche dirigente, ovvero bisogna fare in modo di capire quelle manifestazioni culturali della mentalità collettiva e fare in modo che i valori nostri diventino i valori dei più. Ecco, forse da qua dovremmo anche ripartire per ricostruire sulle macerie qualcosa in futuro, perché se Croce riteneva che il popolo non fosse in grado di governare, all'opposto Gramsci riteneva che gli uomini di sinistra dovevano essere in grado di parlare con il popolo. Il pastore sardo, analfabeta, va coinvolto, si deve discutere con lui e deve diventare un soggetto attivo del processo politico e rivoluzionario. Se non saremo in grado di ricostruire gramscianamente una connessione sentimentale, quella che poi Orwell chiamerà la gente comune e il popolo, penso che per la sinistra non ci sia futuro. Ripartiamo da qui, da quello che è successo nel bienio rosso e dalle riflessioni sempre attuali di Gramsci. Passo la parola a Emilio Frasvia. Grazie. Grazie, io... Grazie mille. Dimmi Todesco. Grazie mille Carlo per questa breve ricostruzione storica da un lato e anche per l'inquadramento filosofico del tema. Ora entriamo un po' nel vivo di quello che è la tematica dell'incontro di oggi. Non so se vuoi portare tu con... Beh, allora, una data fondamentale nella storia che andiamo a raccontare, perlomeno a Vicenza, è sicuramente nel 1920, quando abbiamo l'elezione di Luigi Faccio, che è il primo e unico sindaco socialista a Vicenza. Questo è interessante perché se lo guardiamo anche assieme alle elezioni nazionali del 1919, quindi dall'anno prima, vediamo a Vicenza, comune ma anche in provincia, un affermarsi molto forte dei socialisti. E questo confligge con la visione, la narrazione di una Vicenza moderata, di una Vicenza reazionaria, bigotta, che sicuramente è vera, ma è una parte della storia, c'è anche un'altra parte della storia che vede Vicenza come un polo in cui appunto la sinistra e i socialisti hanno avuto anche un grosso successo. Ecco, questa è una storia che secondo noi va raccontata per fare anche una narrazione differente, quindi chiederei subito se c'è stato un bienio rosso a Vicenza e che importanza ha avuto, ovviamente che riflesso c'è con i risultati elettorali del Partito Socialista nel Vicentino. Cioè la domanda è stata fatta a me, benissimo. Allora, partiamo pure dal 1919 perché è tra il 19 e l'anno 20 che i gran cambiamenti si danno nel mondo, dice una canzone di quel periodo, una canzone sovversiva tra l'altro. Mi dispiace di non poter farvi ascoltare come altre molte che ci sarebbero, che danno già l'idea di come in quella situazione, in quel clima ci fosse un orizzonte di speranza, di aspettativa tale da confermare, quello che diceva Cunegato prima, che l'uscita dalla guerra, dalla fine del primo conflitto mondiale aveva dischiuso delle prospettive, soprattutto in rapporto a quanto era successo in Russia. La parola d'ordine, ma non solo a Vicenza, non solo in Italia, un po' dappertutto, in Europa era fare come in Russia, tra coloro che però avevano anche una storia precedente di impegno di militanza politica e sindacale. E' vero che quel bienio rosso, il 19 e il 20 a Vicenza, sembreranno fatti apposta per smentire una vocazione moderata, cattolica, addirittura clericale e tendenzialmente reazionaria, però bisogna fare un po' attenzione. Ad esempio alle elezioni politiche del 19 il Partito Popolare, il Partito Disturso, che è il grande partito di massa dei cattolici, così come il Partito Socialista e il Partito di massa delle sinistre in quel momento, il Partito Popolare in provincia di Vicenza raccoglie un'ampia maggioranza, raccoglie 85 mila voti e conquista 78 comuni su 127. Però il fatto che fuori da questi comuni che conquista il Partito Popolare ce ne siano altri, tra cui quello importante del capoluogo di Vicenza che invece non sono a maggio solo del mondo cattolico, deve far pensare. I crucialisti nel 19 realizzano un buon risultato a livello provinciale con 20 mila voti e mandano in Parlamento due deputati, così come i popolari ne avevano spediti quattro, i socialisti mandano in Parlamento Domenico Piccoli e Domenico Marchioro, due leader diversi per conformazione, dirò qualcosa di ciascuno dei due poi, che però rimangono uno per poco tempo, perché Domenico Piccoli morirà in circostanze misteriose nel 1921, cadendo, in realtà venendo buttato giù da un treno in Calabria, mentre era di ritorno da un impegno politico, anche perché nel frattempo era diventato lui, Vicentino, ingegnere con una storia alle spalle abbastanza complessa, era diventato capogruppo del PSI alla Camera. Era un personaggio di spicco a livello nazionale che viene eliminato, a Vicenza dissero molti che erano stati i fascisti vicentini addirittura a seguirlo e a buttarlo giù dal treno, non fu mai appurato, tuttavia il dato è che già nel 19 il Partito Socialista e quindi il Movimento Operario Socialista Vicentino aveva battuto un colpo e si replica in maniera fragorosa l'anno successivo, quando nell'ottobre del 20 alle elezioni amministrative il PSI fa bingo con 32 concilieri contro gli otto dei popolari, si impadronisce del Comune, una cosa che non riesce per un pelo a schio, perché schio era poi la roccaforte tradizionale del Movimento Operario Socialista nel Vicentino, non riesce a eguagliare il risultato che c'è a Vicenza. Significativo il fatto che in questa lista socialista il più votato, quello che avrebbe dovuto quindi diventare sindaco non sia né un operaio né un sindacalista, ma sostanzialmente un piccolo borghese con grandi vocazioni letterarie, non eccesso però un buon prosatore, un buon poeta dialettale, Adolfo Giuriato, il quale prontamente rinuncia alla carica di sindaco per lasciare posto a Luigi Faccio che è stato menzionato prima da Rigovello come esponente più qualificato a gestire una situazione che è, e non lo si poteva sapere in quel momento, anche se forse si poteva esagire qualcosa, tra le più complicate nella storia d'Italia, perché in 1920 poi segna la fine delle tensioni e anche in parte delle speranze a finestra, perché si sta delineando una reazione che è quella che poi verrà gestita soprattutto nel 21 e nel 22 dal movimento fascista con gli esiti che tutti scontriamo. E dentro a questa cornice si colloca quindi l'esperienza nel bienio rosso dei socialisti e dei comunisti vicentini, perché anche a Vicenza si verifica una scelta di campo all'interno del movimento socialista con i giovani, soprattutto la federazione giovanile socialista sospinta dagli scledenzi, ma non solo, dagli scledenzi anche da parecchi vicentini, sostanzialmente si sposta sulle posizioni che a Rivorno verranno difese da coloro che danno vita al Partito Comunista d'Italia. Per capire però questa vicenda, probabilmente e anche per capire come mai tutto sommato in un'area fortemente condizionata dal clero, dal mondo cattolico clericale, dai preti, insomma, ci sia arrivati a questo risultato, bisogna guardarsi anche un po' indietro e per minimizzare, non minimizzare, ma per ridimensionare questa etichetta che se accettata così è un'etichetta abusata di un centro urbano che era una cittadina di lunghe tradizioni, anche di attività economica, adesso ne dirò qualcosa, che esprime una collocazione come tante altre nel Veneto condizionata dal mondo appunto, ma non piattita completamente su questo. In Vicenza succedono delle cose che succedono in tutta Italia, che riguardano la formazione anche politica e culturale delle persone. Non più tardi, dall'altro ieri, ho fatto una cosa sul Zoom per presentare l'autobiografia di un mio amico Mario Isneghi, che è anche un grande storico, che tutta la prima parte della sua vita, come per moltissimi altri in Italia, segnala la verla passata in ambienti cattolici, addirittura esastici clericali, dappertutto. Pensate che anche il primo segretario della Camera del Lavoro di Vicenza, Domenico Gasparini, se si va a prendere la scheda della Polizia che lo seguì dal momento in cui divenne sovversivo, figura essere stato a lungo, mi leggo, se vi fate un'idea che cosa diceva la Polizia di quello che nel 1903 è il primo segretario della Camera del Lavoro, Vicentina, che non è ancora nata la CGL, la CGL nascerà, la Confederazione Generale del Lavoro nasce nel 1906, ma la Camera del Lavoro di Vicenza sorge tre anni prima. Domenico Gasparini viene qualificato dagli schedatori di Polizia come un personaggio così e così caratterizzato. Gasparini e Domenico giovinetto frequentava la compagnia dei coetanei aspiranti al sacernozio e assisteva assiduamente alle funzioni religiose. Fatto adulto, ha preso il mestiere del lucidatore dei mobili, poi si diede a fare il pittore di carrozza e da ultimo l'intagliatore di legno, poi era diventato segretario del sindacato degli intagliatori e degli scalpellini. Provatosi così con operai iscritti al Partito Socialista e in breve volgere di tempo fu avvinto pure egli alla causa socialista e nel 1898, quando vennero sciolte le associazioni sovversive, era già iscritto al locale circolo socialista e si offerse di nascondere in casa sua le carte e altri oggetti del suo dalizio. Da riformista il Partito Socialista di Vicenza divenne per opera sua rivoluzionario. Questo è il ritratto del primo, ma si potrebbe fare un lungo elenco di persone che nascono e crescono in questo ambiente sicuramente ipotecato dal clero, dalla visione dei cattolici che mantengono, avete sentito comunque, delle forti posizioni e tuttavia riesce a emanciparsele. Ora, detto questo, bisogna però anche fare riferimento agli antefatti. È vero, verissimo che Gramsci a un certo punto capisce, ma poi lo scrive nei quaderni del carcere, quando è già dopo il congresso di Lione, dopo essere stato mandato in Parlamento e dopo essere stato preso, imprigionato dai fascisti, è nei quaderni del carcere che sviluppa tutte queste riflessioni che portano rispetto anche ad altri pensatori del Movimento Operario Internazionale a valorizzare da subito un elemento che oggi noi consideriamo in realtà è brutale, nessuno ci sognerebbe oggi di attribuire alla sola, chiamiamola struttura, alla sola collocazione nella realtà produttiva, relazionale, economica, eccetera, le persone nell'esito di certe soluzioni e la scelta politica fatta dalle persone, dalla gente, con due collegi della gente. E sappiamo, noi viviamo completamente immersi in questa dimensione che ci bersaglia da ogni lato e quindi va benissimo prendermi atto. Tuttavia è vero anche che non è che Vicenza fosse, dall'altro punto di vista, chiamiamolo quello delle strutture, esattamente quello che di nuovo spesso si pensa. Io e Valdagno erano delle cittadelle industriali, Vicenza era una città borghese o piccolo borghese clericale per definizione, no, perché anche Vicenza aveva avuto, anzi l'aveva avuta anche in contemporanea con io, addirittura da prima, se andiamo a fare proprio i pignoli, nei primi secoli dell'età moderna, ma ancora nel 700, Vicenza aveva una struttura produttiva interiata su alcune lavorazioni, ad esempio il certificio, che fino alla fine del 700 era stato una delle attività industriali più importanti che aveva generato quindi anche una classe operaia, i samitari vicentini, cioè i lavoratori della seta vicentini, naturalmente in quelle condizioni in cui la classe operaia prima della rivoluzione industriale si trovava a operare, avevano una loro collocazione precisa nella città, anche dal punto di vista strettamente topografico, c'erano le fabbriche, avete presente dopo Ponte Pusterla quella che era stata la sede della prefettura, della questura, il palazzo Franceschini era la fabbrica dei Franceschini, la più grande fabbrica di tessuti in seta nel 700 Veneto, 3.000 operai che avevano tutti quanti le abitazioni nella zona di Santa Lucia, delle fontanelle, case operaie, naturalmente era una classe operaia diversa dalla classe operaia di fabbrica come si delineerà a Schio alla fine del 700 e soprattutto nell'800 sotto la guida di Alessandro Roci, però era una classe operaia con una sua tradizione che poteva interagire con quelle che erano invece le attività artisanali e le corporazioni e le associazioni di mestiere che esistevano nell'800, il partito socialista a Vicenza nasce sul tronco di questo associazionismo mutualistico che ha al centro la più grande delle società di mutuo soccorso, che nasce anche quella piuttosto clericale perché la fondano i clerico moderati come fedele e l'abbertico ed esiste ancora oggi la società generale di mutuo soccorso, tanto per spiegarsi di quella che ha la sua cede all'Odion, è una dirammazione come chiesa cinematografo perché è la chiesa di San Faustino ed è attorno a questo mondo di operai di fabbrica ma anche operai di botteghe e di officine, soprattutto alcune tipologie lavorative, l'oreficeria ma non solo l'oreficeria, che il partito socialista si aggrega e si salda con una tradizione di nuovo non clericale, anzi addirittura anti clericale che è quella della sinistra risordimentale e soprattutto quella garibaldina a Vicenza ad esempio ebbe per un certo periodo molto peso, ebbero molto peso le figure dei garibaldini dei mille come il senatore Luigi Cavalli o come uno degli uomini più fidati di garibaldi e aveva a Vicenza i suoi sostenitori anche se non riuscivano mai, non riuscivano mai nella seconda metà dell'Ottocento i laici repubblicani garibaldini ad avere il sopravvento sulla componente moderata che era sostenuta quella sì dalla chiesa, per cui Domenico Cariorato che era l'esponente di schicco del garibaldinismo veneto e l'eroe giovinetto di Garibaldi, quello che a 12 anni alla difesa di Roma viene catturato dei francesi a rispondere a muso duro al generale Udino, questo qua è un pezzo di storia che si salda con la storia del movimento operaio negli ultimi decenni dell'Ottocento quando la stessa stampa originariamente democratica e repubblicana, quella del giornale Bizantin diventa nei dintorni della crisi del 98 una stampa socialista e diciamo per quei tempi anche abbastanza rivoluzionaria, è lì che si formano i personaggi come Luigi Faccio che cresce in un ambiente socialista che non ha ancora peraltro le aperture di sguardo, di pensiero che nel resto del paese possono avere a Milano, a Torino coloro che militano nel Partito Socialista a livello nazionale, però i Veneti e i Vicentini che partecipano alle origini del 1892 del Partito Socialista italiano hanno una loro storia, a Vicenza anche, dicevo topograficamente, vi parlavo prima della sede dei luoghi in cui la vecchia classe operaia pre-industriale aveva addirittura le sue case, negli anni 90 dell'Ottocento, ci ho scritto sopra un libro addirittura 40 anni fa io, si inventano la Repubblica di Trastevere, riecheggiando col nome Trastevere quello che a Roma era un punto di riferimento dei garibaldini degli anticlericali, il quartiere omonimo, a Vicenza lo chiamano Trastevere perché è al di là del battiglione. La Repubblica del Trastevere è uno degli epicentri della presenza socialista in città e genera una serie di vicende che i vicentini, se ci facessero caso, ma quelli più anziani in parte lo sanno, sono anche testimoniate dei luoghi. Le polemiche che scoppiano alla fine dell'Ottocento sono sulla guerra d'Africa, contro la guerra d'Africa voluta da Crispi, i socialisti finiscono anche in galera per avere difeso le posizioni contrarie alla campagna coloniale, addirittura Paolo Rioi è costretto a andare a difendere in tribunale i giovani socialisti vicentini che erano stati arrestati nelle manifestazioni contro la prima guerra d'Africa. Ma poi quando le contese prendono questo sapore che vi sembra strano, lontano dal movimento operaio e dalle lotte del Novecento, ma che in realtà c'ha molto a che fare, quando si mobilitano per poter dare un nome di una piazza o di una strada a Mazzini, oppure di fare una carga, ricordo addirittura dell'unità d'Italia e di Cavour, e poi vogliono fare, e lo fanno anche materialmente, un uso simbolico del 20 settembre. Quella che noi chiamiamo la zona del 20 settembre a Ponto degli Angeli, non si chiamava così, si chiamava fontana coperta, sono i democratici vicentini che impongono questo, addirittura ci fanno costruire una colonna che esiste ancora e pensate che i democristiani l'avevano voluta spostare, la colonna che tutti conoscete, quella con l'angelo in cima, al Ponte degli Angeli, la colonna ricorda il 20 settembre e la DC la volle spostare, dopo la guerra rimase, questo qualcuno ce lo ricorderà, forse anche di voi più giovani, era stata spostata e messa alla fine di via Torretti, tornata al suo posto per motivi viabilistici e di derrotatorie, soltanto un secolo dopo che era stata costruita e piazzata lì, perché? Perché era diventato un simbolo, ma è un simbolo di una tradizione che riporta gli anni precedenti a quelli che interessano a noi, che sono poi nell'immediato la cosiddetta età giolitiana, quando a partire appunto dal 1903, quando viene aperta la Camera del Lavoro di Vicenza, quando entrano in scena i nuovi protagonisti, alcuni dei quali sia a Schio che a Vicenza faranno un lungo cammino, quelli che non vengono costretti all'esilio o non vengono ammazzati, arrivano fino alle soglie giorni nostri, io qualcuno di questi qua l'ho anche conosciuto di persona, era gente che era vissuta lungo tutto il Novecento battagliando, ricorderò finché campo io l'intervista che feci prima che poverino morisse al baratto, un negato sa cos'è, gli scledesi lo conoscono perché è l'ospizio storico di Schio, ma Walter Riccardo che è stato anche poi al suo tempo deputato del Partito Comunista, che era durante l'età giolitiana un giovane socialista, lo andai a intervistare lì all'ospizio, un paio d'anni prima che morisse, morì mi pare nell'80 e mi raccontava le storie di questi giovani socialisti che facevano le barricate contro le guardie a cavallo per protestare contro la guerra di Libia e Walter Riccardo è uno dei militanti socialisti vicentini e scledensi soprattutto che sono al centro di uno dei più significativi episodi, ma proprio a livello nazionale di contestazione e di rifiuto della grande guerra, non solo erano stati di quelli che avevano partecipato o comunque che ne conoscevano le decisioni e le divulgavano ai convegni di Chientale di Zimmerwald, contro la guerra, ma nel 17 vennero mandati a processo assieme ai compagni messinesi che avevano conosciuto nel 1908 quando erano andati con Domenico Piccoli a portare soccorsi ai terremotati di Messina e di Reggio Calabria e vennero processati a Pradamano, nel processo di Pradamano dove un numero consistente di socialisti siciliani e veneti, in realtà vicentini e scledensi, vengono condannati anche se poi alla fine ucciranno di galera, per cui quando tornano alla fine della guerra sia loro sia tanti altri che non necessariamente avevano avuto un'esperienza di militanza e di formazione politico sindacale, ma che durante la guerra avevano visto molte cose, si erano fatti un'idea della realtà come era e come sarebbe dovuta diventare e diventano il fulcro di una iniziativa che può anche sfociare dal punto di vista strettamente elettorale in quei risultati, in quei numeri che avete sentito prima, perché la parola d'ordine intanto al rientro a casa dopo il primo conflitto mondiale è la terra e i contadini, parola d'ordine un po' equivoca perché alla fine verrà usata anche dai fascisti, anche Mussolini la adopera come parola d'ordine, in realtà nell'ottico socialista aveva una prospettiva del tutto diversa e comunque la guerra incide molto sulla genesi del bienio rosso perché non ci si spiegherebbero molte cose, compresa la violenza, la lotta armata e qua su lotta armata intendiamoci come il pensiero corre veloce a episodi anche complessi, contraddittori e inquietanti della storia politica del nostro paese fino quasi alle soglie dei giorni nostri, però la lotta armata è quella che si sviluppa, è l'iniziativa soprattutto dei fascisti che la buttano immediatamente sul lato di guerra civile e di uso della forza, dell'intimidazione che non è appannaggio solo degli arditi rossi di Parma, non c'è mica solo il mondo parmese e emiliano delle battaglie dell'oltretorrente, solo nel Vicentino gli arditi rossi o arditi del popolo sono più di 500 e nel Vicentino era facile che questa dimensione ancora bellicistica la lotta politica si manifestasse perché se c'era una cosa che non mancava nel 19 erano le armi e le munizioni, perché bastava andare in altipiano, bastava girare per i depositi mai smobilitati dell'esercito reso per rifornirsi le armi e le munizioni e che ci fosse questa componente anche di tipo molto violento. Oddio, anche nel mondo cattolico sapete c'erano stati episodi non del tutto dissimili perché gli arditi bianchi o arditi di Gesù menavano le mani altrettanto, bisogna entrare nell'atmosfera di quel periodo e quindi non soltanto sorridere di fronte alle enfatizzazioni che nel campo socialista si danno della prospettiva rivoluzionaria. Ho qua davanti le parole, mi dispiace di non potervi mandare l'immagine dell'inno delle guardie rocce che l'onorevole Domenico Marchioro scrive nel 1920 e che viene stampato a Tio, un foglio volante dalla litografia a Zubbio e che inizia così, su avanti farange del lavoro, l'ora suona della redenzione, sua fretta il moto ci sospinge dall'Oriente, il fatto precursor, l'Oriente è la Russia ovviamente e va avanti così su questa dimensione mitemica anche perché la rivoluzione è un orizzonte, è una speranza, è un sogno che muove la gente, ma muove la gente che aveva già fatto, che aveva già compiuto in precedenza tutto il suo cammino che è stato, e quello sì bisogna ricordarlo, è stato sottodimensionato anche dalla storiografia che ha accettato, preso per buono ciò che nel Veneto e di Vicenza anche, o in particolare di Vicenza diceva la vulgata, che è una vulgata minimizzatrice delle potenzialità che si erano manifestate fin dalla fine dell'Ottocento con una serie di episodi, ma anche di, chiamiamole così, forme di lotta che non escludevano, ad esempio ai primi del Novecento in particolare, ma già alla fine dell'Ottocento, il controllo di fonti di informazione, di comunicazione, di giornali, perché magari qualcuno ha sentito parlare del Visentino, del giornale Visentino sono le due visioni che ha questo settimanale che esce regolarmente dagli anni 70 dell'Ottocento, prima in chiave risorgimentale e poi sempre più socialista, ma che in età giuritiana ci siano giornali come Le lotte del lavoro, è un giornale anarco sindacalista, è nell'ambito della Camera del lavoro di Vicenza che Domenico Viotto, che è un leader sindacale nato a Quinto Vicentino e poi farà il resto della sua carriera in Lombardia, ma in quegli anni lì è a Vicenza, la Camera del lavoro di Vicenza e dirige e guida l'iniziativa, gli operi e le rivendicazioni sindacali degli operai che ci sono anche in città, non soltanto, ripeto, nei grandi poli tessili dell'Alto Vicentino, anche a Vicenza, i vicentini non lo sanno perché sono scomparsi anche i segni, a Vicenza se qualcuno avesse voglia di andare a vedere quel due via, come si chiama, via Le Mazzini, quello della questura, via Le Mazzini, ecco che avevano avuto la loro prima sede, sorgevano gli stabilimenti chimici di Magno Magni, un imprenditore lombardo trappiantato a Vicenza perché aveva trovato forti finanziamenti qua, le fabbriche chimiche che poi lui vendette alla Monte Catini, tanto che la Monte Catini Edison, poi le fece proprie e negli anni venti erano dislocate praticamente dall'inizio dell'attuale via Le Mazzini fino al Campo Marzio, lì c'erano gli operai di fabbrica, non c'erano gli artigiani orafi o le lustraresse o le operaie che peraltro erano un pezzo importante, il movimento operaio femminile, la classe operaia femminile a Vicenza aveva un certo peso, così come le tessare di Schio e di Valdagno, anche a Vicenza nel cotonificio Rossi, quello che è stato abbattuto per far luogo a quegli orrendi incendiamenti della speculazione immobiliare a Vicenza che, diciamo che l'ultimo tratto non glielo lasciano fare, ecco lì il cotonificio Rossi o Cotorossi dava lavoro a operai di città, di Vicenza, ma anche di tutti i paesini della Riviera Berica che arrivavano alla mattina dalle loro sedi di residenza e lavoravano in città, così come in città dalle parti di Santa Croce sorgevano gli stabilimenti, stavolta di settificio, tessili ma di settificio, di un imprenditore svizzero tedesco che si chiamava Schroeder, Scroda, se andate a leggere i romanzi di Neri Pozza, le sue scritture memorialistiche, lui se le ricordava queste cose, le operaie che entravano e uscivano da queste fabbriche, che erano, ripeto, un elemento strutturale nella vita cittadina, nella vita economica, così come gli stabilimenti di Magno Magni, anche se facevano delle cose che a noi farebbero inorridire, non gli operai. La lavorazione ad esempio dei prodotti chimici, i fosfati e queste cose qua, determinavano degli inquinamenti poderosi del battiglione e del retrone per i quali furono violente polemiche e lotte proprio da parte dei socialisti in Consiglio Comunale, i primi del Novecento, per cercare di fronteggiare quella che anche allora appariva come una forma di alterazione dell'ambiente, eccetera. Quindi molte lotte che vengono ingaggiate dagli operai vicentini hanno a che fare anche con questa realtà che sono scomparse fisicamente, visivamente non le vedete più. Io ovviamente per motivi anagrafici posso ricordare benissimo, così come ho avuto modo di parlare con qualcuno di questi uomini nati alla fine dell'Ottocento. Tanto per dire, io le prime volte che ho studiato la classe operaia di Schio e il movimento operaio e socialista Schio, ho dovuto misurarmi con la tradizione dei tessili scledensi e quindi di Alessandro Rossi, le carte di Alessandro Rossi le andavo a consultare nell'archivio di famiglia che era dislocato all'epoca presso il cotonificio, perché erano stati i figli del senatore Alessandro Rossi a dar vita al cotonificio, su impulso del padre, ma tutte cose degli anni Ottanta e dell'Ottocento e quando nel 1898 Alessandro Rossi morì, l'archivio personale dell'imprenditore finì ai figli e lo misero lì a Vicenza, mentre invece l'archivio aziendale, ancora oggi deve essere a Schio in parte, poi l'archivio Rossi è passato dai mani della famiglia alla biblioteca civica di Ticoma, per dire che quel complesso di stabilimenti tessili, me li ricordo piuttosto bene. Allora che cosa è che manca? Se manca la memoria di questo, figuriamoci come si fa a ricordare non solo giornali come il Visentin o le lotte del lavoro, dirette da Domenico Viotto, quindi gli anarcho-sindacalisti o sindacalisti rivoluzionari, che sono una componente importante anche a Vicenza, perché c'è sempre stata una certa dicotomia fra la dimensione sindacale e quella, chiamiamola così, del socialismo riformista, quello rappresentato al massimo grado da Luigi Faccio, tant'è che poi quando si romperà tutto e si arriverà alla frattura principale, quella tra i socialisti, anche Domenico Marchioro rimase dentro al PSI per due o tre anni, uscì dal PSI solo nel 1924 e passò al Partito Comunista allora e poi finì i suoi giorni anche lui, il deputato e il senatore del Partito Comunista, mi pare che Domenico Marchioro sia morto nel 1964, però come tanti altri anche Domenico Marchioro lasciò le sue memorie, se uno vuole leggere la storia del Movimento Operaio nel Vicentino o nel caso di Marchiora, le può trovare queste cose, perché le hanno scritte loro, Domenico Marchioro poi aveva un'autobiografia di quelle corpocissime, molto su cose perché da bambino era stato costretto a seguire la famiglia, in Brasile era andato a finire a fare l'operaio, un ragazzino a 10-12 anni in fabbrica, in Brasile, io come studioso di storia di migrazione è il caso suo e di molti altri, l'ho altro che seguito e poi per forza ho seguito tutte le storie dei socialisti vicentini che sono anche se volete curiose, dicevo prima di Domenico Gasparini, Domenico Gasparini poi scapperà dall'Italia dopo il 24 e emigrerà in Argentina, dove è fatto per 20 anni il legislatore sindacale, è morto in Argentina dopo la seconda guerra mondiale, ma non è stato il solo in emigrazione ad avere delle esperienze che sono vicentine, ma in rapporto al Movimento Operaio Internazionale, quando uno va a vedere i fratelli Marzetto ad esempio, Fermo Marzetto è stato uno dei grandi leader sindacali e non era narco sindacalista, era proprio un socialista di formazione anche molto moderato, vicino a fatto, Fermo Marzetto poi diventò segretario della Camera del Lavoro di Padova, suo fratello Emilio Marzetto Vicentino, emigra in Svizzera, si è andato a leggere l'autobiografia M Mussolini, non quello romanzato adesso, che poi è romanzato anche bene da Scurati, ma anche nella biografia di De Felice c'è l'episodio, che non è una velleità localistica a ricordare, quando Mussolini nel 1903, l'anno proprio della nascita della Camera del Lavoro di Vicenza, ma in Svizzera, così come altri andranno in Trentino, anche lui andò in Trentino alla corte di Cesare Battisti, Cesare Battisti era socialista e anche lì ha trovato dei Vicentini M Mussolini, ma non sapendo dove andare a sbattere, in Svizzera fu ospitato da Emilio Marzetto che era emigrato lì e che l'ospitore, M Mussolini lo ricorda ed è felice e lo riporta e anche questo ci fa pensare molto a tante cose, quello che dicevo prima di Gasparini che si potrebbe ripetere per chissà quanti altri, la formazione cattolica e poi il salto, il salto di specie, ma il salto da una condizione di quel genere alla scelta di classe che riguarda il mondo cattolico, ma c'è anche questa situazione che andrebbe poi approfondita, va oltre la data che ci siamo imposti di considerare qui del bienio rosso 19-20, perché ci porta proprio direttamente dentro alla storia d'Italia dal 22 in poi, perché la giunta di faccio, come sapete o come se non sapete ve lo dico, viene abbattuta, letteralmente abbattuta, perché il 14 di ottobre del 1922 di notte, i fascisti vicentini guidati dall'avvocato Antonio Franceschini vanno a prendere casa per casa il sindaco e tutti gli assessori socialisti e li costringono a firmare una lettera di dimissioni che viene consegnata al prefetto una settimana prima della marcia su Roma, ma episodi di conflittualità sociale e di scontro, scontro violento, la violenza è una cifra che è, come dire, comprensibile, dicevo prima degli ardizi rocci, ma anche la gente normale nel 19, nell'estate del 19, nel centro di vicenda, ma scoppiano tumulti in quantità, stavo dicendo industriale, non avrebbe senso, però scoppiano tumulti molto violenti contro il caro vita e la gente prende da salto i negozi, perché i problemi esistenziali, materiali, al di là delle strutture, ci sono e quando non si possono fronteggiare decorosamente, quella che è la insoddisfazione, l'ira o anche il bisogno, spingono a gesti incolciuti, ma la violenza, quella più forte nel vicentino, in quel periodo lì, ci ha nelle campagne, perché è vero che le campagne sono tendenzialmente molto cattoliche, le zone della piccola proprietà contadina sono dominate dai preti e poi i preti hanno una loro struttura sindacale, il sindacalismo bianco a Vicenza, sotto la guida di Monsignore Arena, con il pensiero anche teorico di Tiziano Vesani, un altro prete che si misura con i grandi pensatori del socialismo internazionale, è qualcosa di molto solido, i preti non solo si mobilitano sul piano sindacale dando vita a leghe bianche e quindi il Partito Popolare ha questa componente qua, ma anche poi, lo sapete, sono al centro di un'iniziativa che nel mondo socialista in parte mancherà, perché il mondo socialista può dar vita al massimo a società di mutuo soccorso, a cooperative di consumo, mentre invece la rete cattolica dà vita anche a un sistema creditizio, a banche, a casse rurali e quindi ha un suo peso, però laddove la struttura fondiaria lo consente o anzi lo impone, quindi nelle basse pianure da Barbarano a Sossano all'Onigo, la mobilizzazione nelle campagne c'è ed è socialista e rivoluzionaria perché i contadini sono braccianti, non sono opere, non sono piccoli proprietari o mesadri e quindi gli scontri che ci sono negli anni 20, come 19, 20, 21 e 22, nelle campagne del Basso Vicentino sono tali quali quelli del Padovano, del Veronese e soprattutto del Polesini e anche lì il Partito Socialista e il Movimento Socialista ha le sue basi, anche se poi nel passaggio fra il Partito Socialista o massimalista o riformista e il PC, il Partito Comunista d'Italia, poi il Partito Comunista, c'è meno forte la presenza bracciantile, almeno tra i coloro che ne sono i rappresentanti terminali politici. Si vede chiaramente, dicevo prima, che in quel momento c'è la forte presenza di quelli che era stati il fulcro delle federazioni giovanili socialisti, ma soprattutto ci sono quelli che hanno già visto quello che era successo, dicevo a Vicenza, perché a Vicenza i socialisti vengono azzerati dall'iniziativa militare del fascismo che praticamente con la copertura dei moderati e anche con l'ignavia dei popolari che non riescono a decidersi e poi alla fine anche loro pagheranno il resto di questo, perché le loro amministrazioni, le amministrazioni bianche cattoliche, una dopo l'altra, dopo il 1922, saranno costretti a chiudere i battenti. Mi pare che una delle ultime sia stata quella di Schio nel 1925, ma oramai vi siamo già oltre un altro episodio che ricorda semplicemente con il nome che nel Veneto il movimento socialista comunque qualcosa aveva di importante, perché è vero che era il segretario in realtà il capo assieme a Turati del PSU, del Partito Socialista Unitario, ma Giacomo Matteotti è un socialista veneto, rentino di origine, ma socialista veneto ed è quello che paga il prezzo anche simbolicamente più significativo di questo scontro. Dopo il 1924 la situazione che dicevo prima mi ricorda molto quella delle origini cattoliche di molti militanti anche rivoluzionari e si deve misurare con la realtà dei fatti. Dopo il 1924 incredibilmente nel giro di pochi anni il fascismo ci impone non soltanto più per via della forza e per via del fatto che ha una struttura poliziesca di controllo e anche di punizione molto bene oliata, ma perché la gente accetta e qua bisogna stare attenti perché il movimento socialista e molti dei suoi esponenti di spicco viene azzerato e ci sono quelli che si rifugiano in una sorta di silenzio nel privato diremmo oggi e gli altri o vanno in esilio o finiscono al confino e in prigione. Questa è la storia d'Italia e avere trascurato che per 20 anni quasi un testo importante del paese, comprensivo anche di coloro che erano stati socialisti e addirittura comunisti fino al capo e non si oppone porta ad equivoci gravi perché l'Italia è un paese che i fascisti li ha avuti nel ventennio e li ha avuti dopo e li ha oggi perché bisogna ricordare, io non so come si faccia a vivere in un paese che nasconde a se stesso non tanto le origini anche a Vicenza, il movimento sociale italiano, cosa è stato? È stata la ricostituzione contro la legge scelta in realtà di un partito fascista, fascista non più al potere ma un partito fascista e la donna sa anche cos'è, ma lo dice lei che è fascista e che è nazista addirittura, ma se lo spazziamo e non tener conto di questo vuol dire mettersi sì delle fette di prosciutto negli occhi. Ora tutto questo lo dico perché poi quel tipo di situazioni che ci furono negli anni del bienio rosso e immediatamente successivi meriterebbero di essere rimeditati, perché sul filo delle discussioni che opposero i massimalisti, i socialisti riformisti, gli unitari, i comunisti, gli uni contro gli altri si possono trovare molte indicazioni relative alla storia, chiamiamola pure storia nostra, locale. Dicevo prima le lotte del lavoro, ma ad esempio per qualche tempo dopo la scissione di Livorno a Vicenza esce il giornale della lotta comunista ed è diretto da Pietro Tresso, altra pagina complicata nella storia del movimento operaio nostro, perché Pietro Tresso è uno dei leader anche sindacali scledense, è uno dei grandi capi del comunismo italiano fino al 30, è uno della banda dei tre fatto fuori poi con Leonetti e gli altri nelle beghe interne del PC e finirà ucciso probabilmente dai comunisti staliniani in Francia dopo essere scampato, l'hanno fatto evadere per ammazzarlo insomma ed ha tutta una storia complessa e un personaggio come Bruno Tosin, sono tanti leader Vicentini o Veneti dentro al PC che hanno svolto ruoli e funzioni di primo piano. Prima si è ricordato, non so forse è stato punegato stesso che ha ricordato Giacinto Menotti Cerrati che è stato segretario del PSI, chiamiamolo massimalista, lui era segretario del PSI e Pietro Belli, era il suo segretario personale, era stato un leader sindacale scledense e Vicentino che poi va a Roma e segue Giacinto Menotti Cerrati e con questo discorso dei nomi ci sarebbe da fare lunga strada perché anche i nomi secondo me sono spesso significativi e mettono in risalto genealogie. Io guardando i nomi dei socialisti per parlarvi quest'oggi di queste cose mi sono andato a rivedere questi socialisti, chiamiamoli delle origini, mi ritrovo poi tutti i cognomi di quelli che hanno avuto figli, nipoti che sono rimasti in quell'alveo lì, Ebuso, Fincato, Nardin, talvolta addirittura i nipoti e i pronipoti hanno i nomi dei nomi e dei bisnonni, potrei farle queste cose qua, Fincato un po' degenerato sul tempo rispetto alla base, però sono nella storia nostra, della nostra zona con tutte le loro, chiamiamole così, caratteristiche che vanno dall'uso del dialetto, dal ricorrere anche un po' talvolta il ruento della blasfemia nel discorso avvalorando. Quando andai a intervistare il povero Riccardo Walter, Riccardo Walter aveva, adesso mi pare che lui fosse dell'87, dell'88, io lo intervistai a Schio, era già da un anno ricoverato al baratto in questo spizio e mi confessò, avevo fatto anche la registrazione, forse ce l'aveva ancora, ma chi sa se quelle cassettine da geloso si possono sbobinare oggi, e aveva fatto un'intervista dove, lo dico a Cunegato che sorride, lo vedo io, ma magari voi no, dove l'intercalare era una varietà di bestemmi, cioè non una sola, ma una varietà molto ricca, molto vivace e mi ricordo che si lamentava del fatto che le suore, perché erano delle suore che accudivano questi anziani, sapendo che lui era stato comunista ed era comunista in più, se continuava a bestemmiare così chiaramente, dava prova di irriverenza, non gli davano la frutta alla fine, non gli davano il dolce perché lo punivano con questo. Altra cosa che mi colpi molto nell'intervista che feci a Walter Riccardo, è che lui, che era stato uno degli uomini di Pradamano, che era stato processato nel 17 e condannato mi pare a un uomini di carcere, che poi non fece, era molto commosso perché aveva avuto, me la mostrò, questa medaglia dei cavalieri di Vittorio Veneto, perché a un certo momento, 50 anni dopo la fine della guerra o più, non ricordo esattamente quando fu, il governo italiano decise di insinire i sopravvissuti del primo conflitto mondiale, tutti quelli che avevano fatto servizio militare della guerra in quel periodo, di un riconoscimento, cavalieri di Vittorio Veneto, si commuoveva con me fino alle lacrime per mostrarmi questa cosa e io cercavo di dire, ma scusa, come effetto a fare una roba così, che si sta condannando anche per esserti battuto prima contro la guerra di Libia e dopo contro le grandi guerre? Sono cose difficili da capire, da razionalizzare, ma ci sono nella nostra storia. Così come ci sono probabilmente molte altre cose che si potrebbero approfondire, io qua avrei avuto tantissime cose in più da dire, ma mi fermo perché oramai abbiamo raggiunto un'ora di trasmissione e se volete aggiungere qualche domanda o qualche osservazione, forse è il momento di farlo adesso. Mi bevo un giusto di acqua. Sì, innanzitutto ringraziamo Emilio per l'ampia inquadratura che ci ha dato del periodo, la peculiarità del contesto vicentino e anche un po' dei suoi esiti. Questo è anche il momento per raccogliere qualche domanda eventualmente dal pubblico, se volete scrivere nei commenti del browser da cui state guardando questa diretta, siamo pronti ad accoglierle. Nel frattempo, finché arriva qualcosa, volevo solo chiedere uno spunto che forse è anche un po' un riassunto di qualcosa di già detto, ma vorrei capire se ci sono delle peculiarità nelle richieste, nelle rivendicazioni del socialismo vicentino rispetto a quello del resto del settentrione, sempre parlando di quel periodo. E se alcune di queste sono state soddisfatte. poi se eventualmente in qualche modo in parte queste rivendicazioni, queste soddisfazioni ci sono delle ripercussioni sulla nostra realtà odierna o se sono cose alla fine così distanti da non essere così attuali. Dipende perché molte lotte si ingaggiano per ottenere risultati che sono legati all'aumento salariale, all'abolizione delle multe, tutto un insieme di cose che solo in parte vengono raggiunte come risultato, perché non… anzi, molto spesso c'è l'opposto del risultato positivo, molti episodi di contrapposizione fra padronato e operai in questo periodo portano a risultati, portano a casomai a serrate e a una perdita anche di condizioni. Tra l'altro nel vicentino, prima lo ricordavo con negato, ci sono episodi, non c'è tanto, nell'occupazione delle fabbriche del vicentino, non è tanto presente. Ci sono degli episodi forti di lotta operaia, specie nell'alto vicentino, nelle fabbriche tessiche, non però in corrispondenza con la mobilitazione nazionale che porta a questo preludio, sembrava della rivoluzione compiuta, perché l'occupazione delle fabbriche viene vista, intravista, dove si verifica come un anticipo di quello che sarà la socializzazione e la rivoluzione che poi non arriverà. Una cosa è sicura e la mobilitazione sindacale e le lotte che ci sono anche prima del 1920, alcune anche addirittura nel periodo della guerra, anche durante il periodo bellico ci sono molti episodi di contrasto, anche se sono prevalentemente gestiti dalle donne, sono le donne che scioperano e protestano e ottengono anche alcuni risultati, però fondamentalmente una cosa si vede nel 1920 è che l'orizzonte, quello che chiamavo prima l'orizzonte di fondo è quello proprio rivoluzionario, perché sono le aspettative come si aspettasse un messia, il messia c'era, era Lenin con l'accento sulla I finale, il peso della rivoluzione russa e di quella che diventa poi l'Unione Sovietica è enorme, tra l'altro alcuni di questi vicentini che ricordavo prima come Tosin, come Teresco eccetera, finiscono dopo il congresso di Livorno, sono di quelli che vanno in Russia e fanno scuola a quadri e tornano in Italia, quindi a Vicenza, tornano nel Veneto e rafforzano questo orizzonte chiamiamolo mitemico, però sul piano delle rivendicazioni e delle chieste si vede chiaramente come certi obiettivi grandi non vengono raggiunti subito, verranno in parte conseguiti di rimessa, ad esempio l'imponibile di manodopera che è uno dei punti di rimenti nelle lotte non di fabbrica ma nelle campagne, alla fine poi qualcosa lo ottiene e soprattutto questo tipo di mobilitazione e questo tipo di richieste costringe bene o male coloro che dall'altra parte non vogliono tenersi indietro a fare a propria volta fra virgolette delle concessioni. Tenete presente che la sconfitta politica del movimento operaio e socialista rivoluzionario o comunista nel 22 seguenti è accompagnata da una crescita non solo elettorale perché visti che non avevano toccato palla nel 19 o nel 21, poi riescono ad ottenere risultati elettorali anche con il marchigegno del listone e della legge acerbo ma soprattutto riescono a impadronirsi di una parte molto consistente nel mondo operaio e contadino attraverso i sindacati economici di regime e uno ha bel dire bisogna saperle queste cose, non c'è soltanto questo rovesciamento incredibile di posizioni, di opinioni, ma c'è anche una novità sotto il profilo della rivendicazione sindacale e il fascismo con i suoi sindacati, con i suoi sindacalisti, spesso anche sindacalisti che avevano un'esperienza precedente a sinistra, un po' qualche nome tanto per intendersi, uno dei primi ras fascisti nella nostra provincia anche se dopo la carriera fa quasi tutta altrove, è un sindacalista di Marostica e adesso Tosi mi fa, ogni tanto mi domando ma non sarà mia sta l'eccesso di masturbazioni adolescenziali, un vuoto di memoria, non mettermi fuori il nostro personaggio chiave che poi Mussolini manda anche in Argentina e in Brasilia a mettere in piedi i fasci italiani all'estero, è di Marostica, un cognome che è molto diffuso, dopo mi viene in mente e ve lo dico, comunque i sindacalisti fascisti subentrano anche, spesso si impadroniscono delle sedi, è anche questa molto divertente, la prima sede della Camera dei Lavori di Vicenza era stata a Palazzo Terretto nel cuore di Trastevere e poi a Palazzo Angaran, Palazzo Angaran diventerà dopo quello che adesso lo vedete, una sede dell'Inps, ma quando alla fine della guerra ci sarà da fare i conti, i sindacati fascisti vengono espulsi da quella che era diventata la loro sede in via 4 Novembre, poco prima dell'Istituto Rossi, quell'edificio grande, molto visibilmente fascista, che era la sede dei sindacati fascisti e che diventa la sede della CGL per un certo periodo di tempo e poi cambiano di nuovo perché costituiscono, si sovrappongono, questa cosa mi ha sempre molto colpito, ma del resto è inevitabile e anche molti sindacalisti fascisti che furono attivi negli anni 20, nei tardi avvenimenti ad esempio a Valdagno e a Schio, che furono anche allontanati e esportati in altre zone dai loro superiori, ricompaiono dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, anche se per lo più finiscono nelle file della Cisle e della Will, però erano sindacalisti fascisti, alcuni sono anche sindacalisti fascisti che finiscono nella CGL. a Vicenza si potrebbero fare anche qua nomi e cognomi, adesso non mi portate, visto che ho avuto una defaianza, non riesco a farmi venire in mezzo, ho scritto sopra anche un libro, ma fermo lo figuriamo. Però tornando al discorso rivendicativo e delle lotte, queste ci suggeriscono Ottavio Dinale, che è poi il papà di Neos Dinale, che fu l'ultimo prefetto fascista di Vicenza nel 44-45. Ottavio Dinale era stato anarcho sindacalista, un personaggio di primissimo piano in quell'universo ricca, era di sinistra, diventa uno degli uomini più fidati di Mussolini e poi seguirà un percorso, diventerà anche prefetto del regno e quando Mussolini va a Sarò, è uno dei pochissimi che possono andare a parlare con lui e lascerà dopo, dopo la fine della guerra, anche le sue memorie con tutti i ricordi di questo ultimo periodo, quello di Sarò, mentre invece il figlio Neos Dinale è quello che sovraintende la parte più drammatica e tragica della lotta di liberazione nel Vicentino, dovendo contrastare le iniziative banditesche di una parte dell'establishment neofascista, i fratelli del federale di Vicenza Giovanni Canera e anche tutte le polizie, anche quelle tedesche, lo processano e lo assolvono dopo la guerra. Ottavio Dinale è un esempio classico di un uomo di sinistra, ma quanti ce ne sono nella storia anche del movimento operaio socialista che fanno questo passaggio nell'idea di continuare a fare quello che avevano fatto anche prima e questo però aprirebbe tutto quanto uno scenario differente e diverso, non rientra nelle cose di cui abbiamo parlato oggi. Però avete capito? Io credo che attraverso questa esposizione necessariamente così estemporanea perché io faccio più volentieri le lezioni mirate su piccole cose perché andando su quelle piccole cose si capisce molto meglio la dinamica di fatto. Però anche così avete capito quanto è complicata e complessa la situazione, come anche le scelte di stare dentro alla corrente massimalista, oppure a quella socialista unitaria e riformista, oppure a quella comunista, oppure dentro a quella comunista le varietà perché il povero Tresso viene accusato di essere simpatizzante di Trotsky e essendo Trotsky messo al bando ovviamente da Stalin fa la fine di Trotsky stesso che viene picconato e lui viene ammazzato. È stato uno dei uomini di primo piano di spicco del movimento comunista italiano tra esso. Gente che aveva, come abbiamo cominciato questa conversazione attraverso il ricordo che ha fatto Carlo Cuneato di posizione di Gramsci, alcuni di questi qua, tra esso senz'altro, ma anche Tosì e anche Marchioro con Gramsci avevano il rapporto anche personale diretto, per cui voglio dire che la perifericità di Vicenza o la teorica caratteristica moderata e clericale non è esaustiva, non è vera, è un mondo che ha dentro tante cose. Forse è meno visibile oggi che non in passato perché oggi chiaramente una crisi la sinistra la sta vivendo e anche molto grave perché si stenterebbe anche a riconoscere una matrice o una collocazione, chiamiamola di sinistra, a molti di coloro che poi militano in partito, che pensano siano di sinistra ma non lo sono. In ogni caso destra e sinistra ci sono, quando uno dice io non sono né di destra né di sinistra, è di destra, la prima cosa da fargli presente è quella lì, proprio per il resto si può trattare. Questo vale anche per alcuni di questi personaggi che però avevano un mondo un po' più semplice nonostante tutto. Loro ebbero, direi, i nostri predecessori in questa strada lunga che ha mai di cent'anni, ebbero un momento drammatico, fu la Grande Guerra e poi la Seconda Guerra Mondiale. Dalle due esperienze si esce in maniera diversa. Quelli che si trovano a vivere oggi hanno qualche cosa di differente, che orizzonti hai di tipo mitemico, che prospettive hai di rivoluzione quando il mondo non solo ti mostra il Bolsonaro, il Trump, il Boris Johnson, ma ti mostra la gente dovrebbe essere da tutt'altra parte che li vota. Non so se avete mai fatto caso, ma è una cosa che non può non ricordare il fatto che Mussolini era stato fino all'ultimo socialista e poi diventa il primo a fare questo esperimento e ottiene il consenso di una parte degli italiani abbastanza a lungo. E quelli che non sono d'accordo, zitti o in galera o in esilio. Questo è. Ti propongo una domanda che ci è arrivata dal pubblico. Allora, mi chiedono se ci sono effettivamente dei contatti concreti tra i militanti di Vicenza e quelli del triangolo industriale di Torino. Ti chiedo se riusciamo a essere un po' brevi che tra dieci minuti poi dobbiamo finire. No, no, ma prima ricordato, senz'altro, i rapporti soprattutto perché molti di questi personaggi che ho citato, adesso ricordo Cosin, ricordo Domenico Ghiotto, i fratelli Marzetto, sono tutte figure che sono inquadrate. scusami, scusami, integro la domanda perché non avevo visto la seconda parte, scusami che... Sì, di integra, integra. Oltre a questo mi si chiede che oltre ai personaggi e contatti che ci sono, se riemerge dopo il fascismo un'eredità sia in termini di personaggi che di contatti tra il mondo veneto e il triangolo industriale nella questione del... non contatti industriali ovviamente, ma insomma nel... l'ambito di cui stiamo parlando. No, no, beh... ma... prima lo... Sì, no, sì, scusami Carlo. Io vi devo lasciare perché ho un altro... Grazie, ciao, ciao, ciao. È stato un piacere di guardarmi. Ciao, ciao, grazie. Allora, tornando al punto, ecco, sì, si può dare una risposta attraverso alcune delle figure che ho ricordato che fanno le loro carriere di leader sindacali e politici anche dopo averla iniziata a Vicenza, altrove proprio, se non sempre tutti, ma nella maggior parte dei casi, nel cosiddetto triangolo industriale, soprattutto in Lombardia, perché Domenico Viotto ad esempio diventa segretario della Camera del Lavoro di Brescia e finirà la sua carriera anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio Brescia, tant'è che quando si fanno le biografie di questi personaggi si riscontra questo tipo di esperienza. Io addirittura quando 40 anni fa mi misi a studiare queste cose, se ci sono le scoperte abbastanza inquietanti, perché l'ho messo anche in quell'opera che è intitolata La classe di uomini partiti, che è correndata da un dizionario biografico. Per fare il dizionario biografico io e altri andammo a vedere al casellario politico centrale e mi accorsi che c'era un mio omonimo, non col mio nome di battesimo, ma col mio cognome, Nappa a Vicenza eccetera, che era schedato dalla polizia nel 22 a Varese. Allora a quell'epoca mio padre era ancora al mondo, mio padre era del 20, quindi gli chiesi scusa ma questo questo si chiamava Umberto, dico questo qua, dico tu lo conoscevi questo, e fa lui dice si dice era mio zio, come dico era tuo zio, non mi hai mai detto niente, era mio zio, e scoprì che questo fratello di mio nonno era andato via da Vicenza perché pressato dai fascisti vicentini cercava di ricostruirsi qualcosa altrove, però anche a Varese dove era finito si era impegnato da un punto di vista sindacale e quindi di nuovo era stato preso di mira e controllato dalla polizia fascista. Gli spostamenti a volte sono determinati dalla paura di essere in casa propria perché ben conosciuti, di essere troppo tenuti dopo, altre volte sono determinati dalle carriere, mentre è molto più vistosa la mobilità dei militanti e lì è più difficile seguirli, mentre per Tosin, per Presso, era diventato uno degli esponenti di spicco anche della FIOM del sindacato, quindi dei meccanici, quelli li puoi seguire perché hanno posizioni di spicco, però degli altri è più difficile, attraverso le schedature polizia si capisce, hanno una mobilità di lavoro che li porta dalle fabbriche tessili del Veneto, alle fabbriche tessili della Lombardia o del Piemonte e per non parlare poi dell'impegno che protagono all'estero, perché moltissimi, per dire un altro capitolo, ho visto che poi di fatto io questa storia che vi ho raccontato nelle mie competenze specifiche è molto circoscritta al Vicentino e al Veneto perché io poi in realtà ho passato tutta la vita a studiare la storia dell'immigrazione, tant'è che ancora adesso non conto un accidente nel panorama storiografico e culturale perché non gliene frega niente a nessuno di questo che è uno dei problemini centrali nell'Occidente e non soltanto in Italia, nessuno mi ha mai interpellato per queste cose, mi viene da ridere, ma io ho studiato per tutta la vita le immigrazioni e nella storia delle immigrazioni ho studiato anche le immigrazioni schedate, cioè le schedature di polizia ai danni degli emigranti, ma soprattutto quello che fanno andando all'estero e all'estero sono e diventano spesso protagonisti di un impegno politico e sindacale di primordine i nostri che sono stati costretti a emigrare o dal bisogno o dal desiderio di andare a migliorare le proprie condizioni o addirittura nel caso degli esuli dalla paura di dover finire in prigione o al confino e quindi c'è una circolarità di personaggi che nelle organizzazioni finché rimangono in piedi del movimento operaio si muove dal Veneto, dal Vicentino in altre parti del nord Italia, soprattutto il caso della collaborazione fra i socialisti di Schio e di Vicenza e i socialisti di Messina è più legato alle iniziative di Domenico Piccoli, Domenico Piccoli è stato un personaggio di Spico quando nel 1908 il terremoto butta giù due città e lui che guida i soccorsi e porta molti militanti socialisti ad avere questo rapporto per cui c'è questa anomalia perché altrimenti gli scambi sono col nord Italia, con il movimento operaio e sindacale del centro nord oppure di varie parti. Invece per le continuità a cui ho accennato prima, quello richiederebbe uno sforzo di approfondimento diverso e ulteriore perché effettivamente le carriere, prima citavo quelle dei sindacalisti, ma non ci sono solo i sindacalisti, ci sono anche tutte le storie dei giovani ad esempio, visto e considerato che la storia del Partito Comunista d'Italia, non solo a Vicenza e nel Vicentino un po', soprattutto è una storia che nasce a ridosso del grande slancio che per la prima volta dopo le gesta anche ottocentesche risorgimentali dei giovani volontari Garibaldini e quant'altro, ma che viene in primo piano sono i giovani, quanti anni avevano Gramsci togliati in questa congiuntura del 19-20, quando fanno l'ordine nuovo a Torino, oggi li chiamerebbero ragazzi alla televisione, un ragazzo di 36 anni, si grazie ragazzo, quelli si erano ragazzi ed erano ragazzi loro come gli altri dall'altra parte perché non a caso avevano scelto come inno giovinezza, perché le cantoni del movimento operaio sono belle retoriche, quegli altri le avevano calcate su una gata anagrafica che fa sì che coloro che arrivarono a impegnarsi in politica e nella lotta sindacale negli anni venti, se superano da una parte o dall'altra i casi della vita e della storia arrivano abbastanza in grande via, quando vi dicevo prima che io alcuni di questi li ho conosciuti, perché quando io gli anni ne avevo 30 andavo a intervistarli, ma loro ne avevano qualche volta l'età che ho io adesso, erano poco più che 70 anni, 80 anni e avevano fatto tutte queste cose che adesso a noi effettivamente appaiono sono lontanissime, perché è chiaro che stiamo parlando di cose di 100 anni fa, ma 100 anni fa questi qui erano magari 1903, 1905 e sono quelli che sono stati più longevi sono arrivati fino alle soglie dei giorni nostri, nel caso di quelli che ho potuto intervistare, intrappellare io, addirittura a quelli che erano i giorni miei negli anni 70 del secolo scorso e quindi vedevo delle parabole e anche le storie dei giovani, di nuovo ripeto sono significative, perché i giovani allora che erano nati dopo questi che io andavo a intervistare allora, quelli che erano nati diciamo dal 1910 in poi, anche i grandi personaggi tipo non so, gli scrittori come Meneghello, come Parise, questi qua, ragazzi hanno fatto la loro adolescenza e giovinezza tutta dentro al fascismo e quindi è già stato un miracolo che ne siano usciti bene, non mantenendo quelle posizioni, ma non bisogna credere che durante il fascismo i giovani che erano nati diciamo dal 1910 in poi non avessero con entusiasmo aderito al fascismo. Il consenso al fascismo viene da giovani che non hanno neanche un'idea di quegli altri giovani che li avevano preceduti perché sono stati cancellati, così come dalla memoria spesso, più tardi, sarebbero stati cancellati questi di cui vi ho parlato io oggi e per la maggior parte dei vicentini non esistono, non ci sono, chissà chi siano, per cui non fu male se una quarantina d'anni fa io e altri ci fossimo imbarcati a raccontarne la storia e a pubblicare dei libri che ancora oggi sono rimasti i soli che trattano in maniera sistematica di questi momenti dalla fine dell'Ottocento all'età giolitiana, agli anni venti, anche alla resistenza, ma lì le cose si hanno. Ed è proprio su questo che volevo concludere ringraziandoti anche per l'approfondimento sul periodo, sui personaggi, sui luoghi che spero anche verranno osservati con occhi diversi da tutti i partecipanti a questa conferenza. Ossia c'è una breve e significativa bibliografia per chi volesse approfondire il periodo. Prima tu avevi parlato delle memorie di Marchioro, c'è qualche altro libro? Mamma mia i libri ce ne sono, allora intanto adesso esplicito le cose, allora uscito nel 1982 c'è questo qua che non so se si vede che è la classe degli uomini e i partiti, sono due volumi, non so se si vede, sono due volumi di 1600 pagine, quindi una cosa lieve, dove ci sono molti autori che erano molto giovani come me, quando io li congregai, li invitai, alcuni di loro sono diventati famosi perché qui ci sono dei saggi di Ilvo Diamanti che oggi è un'autorità in un campo, non è uno storico, un sociologo ma sono contributi di storici, allora storici in fasce come Renato Camurri oppure Giorgio Roverato e questo, la classe degli uomini partiti è il libro più importante per capire questa storia di cui vi ho parlato oggi, un altro libro che venne pubblicato nell'85 e raccoglieva gli atti di un convegno organizzato dalla CGL di Vicenza, questo che è operai e sindacato a Vicenza, vedi a copertina e viva il socialismo, e questo qua è però ancora un libro di allora. Altri contributi ci sono ma sono dispersi in riviste, l'unica cosa speria da fare, oltre a questa indicazione perché dentro al movimento operario si potrebbero ricordare i nomi di quelli che lo hanno studiato, per me il più bravo Vicentino è stato un mio amico che non c'è più che si chiamava Ezio Maria Simini di Schio che non era uno storico di mestiere nel senso di professione perché non era un accademico, era un volontario che ha scritto dei libri molto belli, ha scritto un libro intitolato Il nostro signor capo sulla classe operaia di Schio e assieme a lui anche altri che hanno scritto cose riguardanti Vicenza e il Veneto, visto in un'ottica diversa, ma probabilmente per fare una bibliografia adeguata arrivando vicino ai giorni nostri si riscontrerebbe il venir meno di questi interessi fra gli studiosi, nel senso che ci sono degli ottimi contributi mirati in chiave di microstoria che sono molto interessanti, perché la microstoria ti aiuta a capire da un dettaglio piccolo tanti altri, ma quello che ho tentato di fare io 40 anni fa e anche questa sera è una specie di affresco, cioè un quadro generale perché altrimenti non si hanno le coordinate, anche quelle spaziali mi sono limitato molto, non ho insistito sui luoghi della memoria in una città come Vicenza che però, quelli che ho ricordato per il Trastevere, per il Ponte degli Angeli, per le Borgate d'Oltre e Bocchione, insomma sono importanti così, quando fecero la Camera del Lavoro a Vicenza nel 1903, fecero il primo passo a Palazzo Ferretto dove erano ritrovati poi a Palazzo Angaran, poi andarono al Teatro Verdi che poi è stato distrutto dalla guerra e alla fine salirono a Monte Berico e non perché avessero come socialisti un particolare fervore religioso per la Madonna di Monte, ma perché era un luogo simbolo della città e perché lì una volta erano successe tante cose, tante iniziative, ad esempio non molti anni prima, nel 1897, quando si preparava la prima giunta clericale di Vicenza e per festeggiare il 10 giugno, sapete che il 10 giugno è una festa cittadina, ma è una festa che ricorda la battaglia contro gli austriaci del 10 giugno e il 10 giugno del 1897, siccome le autorità che avevano il potere allora, i clericali, la giunta del Conte Roberto Tilleri del Verbo, voleva impadronirsi di quella circostanza e ricordarla a modo suo in chiave solo religiosa, successe un disastro perché il corteo dei clericali andava verso Monte e i rivoluzionari, i democratici, i repubblicani e i socialisti li aspettarono all'altezza del Cristo e si picchiarono sangue per avere il controllo della cima del monte, per ricordare il 10 giugno del 1848 e quindi molte volte anche queste contese che sono contemporaneamente materiali, pratiche, si viene alle mani simboliche e hanno a che fare con i luoghi perché altrimenti non si spiegherebbe la storia che è bellissima nel suo genere della corona con l'angelo al ponte degli Angeli perché voi probabilmente da come vi vedo stentate a ricordarvi quella corona lì all'imbocco di via Torretti di fronte al palazzo dell'Aranco, però fu tenuta, fu stata lì per motivi politici ed è tornata al suo posto per motivi viabilistici perché a un certo momento avete avuto l'assessore alle rotatorie fascista di origine libica che ha deciso di rimettere la corona perché così si poteva fare una rotatoria così e strade, però questa è storia, va bene. Io la ringrazio molto per questo incontro che appunto ci ha permesso di avere una visione anche differente o comunque un'altra parte della storia della nostra città, appunto un altro punto di vista storico, politico, anche geografico appunto come diceva in conclusione, molto importante. Questo della narrazione della città è anche un tema che è venuto fuori anche nelle riunioni di Fornaci Rosso e che coorganizza questo incontro quindi a cui noi teniamo molto e teniamo particolarmente. E con questo chiuderei, ringrazio ancora il professor Franzina e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Per dire proprio un'ultima parola, io credo che questo ultimo argomento, quello dei luoghi della memoria legati al socialismo, potrebbe essere proprio l'occasione non appena si potrà finalmente ritornare nelle strade magari per farci una passeggiata insieme aperta, una specie di passeggiata tematica insieme. Chi sarò, se chi sarò. Con questo auspicio ci salutiamo, grazie mille. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao, ciao.